Caritas Insieme per le prossime due puntate vuole portarvi a visitare, entrando, un'istituzione che festeggia i suoi 30 anni. È la provida madre di Balerna che da 30 anni accoglie persone portatrici di Andipka. Il presidente Gian Mario Pagani, da volontario, è molto presente in questa storia. Tutto è nato così quasi per caso, c'erano tre suorine brasiliane qua nel Palazzo Vescovile che si erano presi cura di alcuni piccoli disabili e qualcuno, in particolare il Lions Club, ha voluto dare una mano a queste suore per toglierle da una situazione spartana in cui erano chiamate ad operare. Allora Lions Club e un amico del Lions è venuto a chiedermi di dargli una mano, Don Mazzetti, l'onorevole Ghisletta che mi è stato di grandissimo aiuto durante l'impostazione di tutta l'operazione. Anche il Cantone era apprendista in questo ramo della socialità così come noi. Fino ad oggi Confederazione e Cantone ci hanno permesso di operare con tranquillità finanziaria. Oggi le cose stanno cambiando, qualche preoccupazione l'abbiamo anche perché Cantone sta mettendo in opera dei sistemi di gestione finanziaria un po' diversi, tutto visto al contenimento delle spese e questo si ripercuoterà su di noi. Il problema per noi non è semplicemente finanziario, il problema è la qualità del servizio che noi vogliamo garantire ai nostri ospiti e che ci ha contraddistinto fino ad oggi in tutti i 30 anni. E da allora proprio per approfondire un po' la tematica che non è semplice, è nuova per noi, abbiamo addirittura previsto di dedicare una serata di studio in occasione di questa ricorrenza dei 30 anni che avrà per tema quanto costa la socialità, quale contributo può fornire la comunità. Capisci che qui intravediamo un intervento sempre maggiore dei nostri amici, della collettività di Balerna, della collettività del Mendrisiotto, della collettività cantonale anche, che ci hanno sempre aiutati, ci sono stati vicini o fino ad ora, ma che probabilmente da oggi in avanti dovranno esserci ancora più vicini. Costi della socialità e contributo della comunità. Adriano Cattaneo, direttore di Provi da Madre, è una illusione o è una possibilità reale? È una possibilità reale, è una possibilità che dobbiamo già dire esiste già adesso, in minima parte forse, perché la comunità comunque collabora tramite le offerte, tramite le donazioni al mantenimento e al funzionamento dei nostri istituti sociali. Certo che con le difficoltà finanziarie che si intravedono all'orizzonte, forse questo contributo sarà ancora più necessario. Abbiamo un contributo particolare, quello di Mimi Lepori, esperta del settore dello sviluppo e che offre un quadro di queste difficoltà finanziarie e del modo in cui si possono affrontare. Vediamolo insieme. Il nostro Stato, la nostra società nella quale viviamo, ha dato alle persone disabili in questi anni un posto importante, nel senso che si è fatto carico di queste persone e quindi è importante mantenere quanto acquisito in questi anni. Quindi non è semplice capire dove intervenire per diminuire i costi e lo vedremo adesso con la perequazione finanziaria. La perequazione finanziaria dà un compito al cantone, quello di poter attraverso il contratto di prestazione dare dei soldi alle istituzioni che si occupano per esempio del settore del disabile, ecco sarà in questo momento che le fondazioni avranno un ruolo attivo perché devono diventare dei partner importanti dello Stato, molto di più di questi ultimi anni. Diciamo che è difficile fare delle ipotesi perché noi oggi abbiamo delle istituzioni dove la spesa maggiore, ma la spesa che si situa tra l'80 e l'85% è dato dagli stipendi del personale che lavora in queste istituzioni. Il resto sono spese assicurative, alimenti, ma è poco. Allora una riduzione delle spese, del costo di queste istituzioni vuol dire toccare il salario, toccare quindi il personale che lì ci lavora e questa è una scelta politica perché l'aver raggiunto oggi questi stipendi è segno di riconoscimento di un ruolo importante, quello dell'educatore, quello dell'infermiera, di queste professioni che solo in questi ultimi anni hanno questo riconoscimento anche di tipo finanziario. Credo però che in questo discorso il ruolo delle istituzioni, del privato sociale, delle fondazioni, delle associazioni debba diventare un ruolo molto più attivo perché in questi anni il privato sociale ha come beneficiato in maniera forse automatica dei sussidi del cantone, certo presentando preventivi consuntivi, ma in maniera forse automatica. Oggi questo cambierà, cambierà perché ci sono i contratti di prestazioni, quindi una distribuzione diversa, ma secondo me nel privato sociale ci sarà una concorrenza nuova perché tutti dovranno coprire quello che lo Stato non copre più con la comunità, quindi dovranno inventare, essere creativi, inventare forme di solidarietà nella società civile, nella comunità per riuscire ad avere dei soldi per coprire il loro fabbisogno. Questo metterà per la prima volta, credo nel canton ticino, il privato sociale in concorrenza. Chi sarà capace di marketing, chi sarà capace di idee innovative, chi sarà capace a vendere il proprio prodotto, il proprio prodotto cos'è? La cura, la solidarietà, la capacità di accoglienza. Ecco, chi sarà capace a vendere, tra virgolette, meglio il prodotto della solidarietà, riceverà dalla comunità un riconoscimento. La crisi quindi come opportunità, diceva Mimilepo, la crisi come possibilità delle fondazioni, delle istituzioni di muoversi, di mobilitarsi, ma la difficoltà è reale però? La difficoltà è reale, sì, effettivamente la situazione finanziaria è pesante e temiamo per il futuro rispetto a queste novità di contratti di prestazione della nuova preguazione finanziaria che diventerà ancora maggiore. Muoversi sul territorio e essere più propositivi, più attivi, sicuramente è una sfida a cui dovremmo rispondere. Ecco, ma in che senso ci sono tutte queste difficoltà? In fondo il finanziamento è comunque garantito o no? Il finanziamento è garantito per il momento, ma bisogna tenere presente l'invecchiamento della popolazione handicappata, che è un dato reale che si sta facendo e quindi le nuove risposte che dovremo trovare e sono risposte anche, diciamo così, improvvise durante l'anno, quindi non pianificabili, non quantificabili e questo è un po' il timore delle fondazioni, degli enti, trovarsi magari davanti a situazioni non previste e doverle gestire senza far cadere la qualità. Si tratterà veramente di tenere sotto controllo tutte le uscite, diciamo così, correnti per avere un piccolo risparmio per far fronte agli extra. Abbiamo chiesto a proposito un parere anche di Carlo Denti, vediamolo insieme. La possibilità di recupero è proprio quello di avere delle figure professionali che siano meglio calibrate rispetto a quello che è la necessità della persona. Tutto questo ha un'incidenza sui costi, cioè se noi scegliamo delle figure professionali adeguate c'è un contenimento della spesa. Quando io dico contenimento della spesa non vuol dire che lo Stato deve spendere di meno, perché ci troviamo confrontati a una società dove come invecchia la popolazione, come invecchia o aumenta la popolazione, aumentano anche le persone a rischio, le persone che sono portatori di handicap. Quindi una minor spesa va di nuovo investita in quelle che sono i cosiddetti bisogni che sono emergenti. Ed è per questo che la sfida del domani non è tanto quello spendiamo meno, ma è quello di riallocare le risorse che noi abbiamo per rispondere alle necessità. e finora questo l'abbiamo fatto, cioè finora siamo riusciti a evitare che ci fossero degli interventi radicali a livello di contributi assicurati agli enti che operano nel settore dell'handicap, in modo che non siano toccate, non siano messe a repentaglio le prestazioni che hanno diritto le persone che si trovano in istituto. Sfide future, paure future, sono i contratti di prestazione, c'è la perequazione finanziaria, sono tutte delle terminologie che sicuramente danno adito a preoccupazioni. Però a mio modo di vedere come il cantone, come gli enti che operano in questo settore hanno saputo affrontare quelle battaglie nei decenni scorsi, addirittura quando non si aveva neppure una base legale. Ecco, rendiamoci conto, la legge è del 79, da allora gli istituti hanno permesso al cantone di dar seguito a una risposta che io riterrei più che qualificata. Il futuro è sempre fatto partendo da quello che esiste e da quello che è stato creato. Abbiamo imparato tante cose, gli enti stessi hanno imparato tante cose, assieme dobbiamo interrogarci e assieme dobbiamo trovare le risposte per quella che è la situazione del domani. Per cui io direi, paura, è giusto avere la paura, però non bisogna nemmeno lasciarsi andare, lasciar cadere le braccia, cioè la speranza. Almeno io sono fiducioso, ecco, ho fiducia in quelli che sono gli operatori, ho fiducia in quelli che sono i nostri partner sociali, ho fiducia in un Parlamento, perché in definitiva è poi il Parlamento che decide quali misure intende ottemperare per contenere i contributi. Carlo Denti identificava nella differenziazione delle risorse una possibilità di risparmio di spesa. Bisogna fare molta, molta attenzione, perché abbiamo delle prestazioni adesso veramente di qualità. Ci sono state anche chieste di qualità, tramite la certificazione UFAS 2000, gli istituti sono diventati istituti certificati con una qualità. E allora è chiuso a fare attenzione, per avere delle prestazioni di qualità bisogna avere anche persone professionalmente molto preparate. Quindi si tratterà di cambiare magari il tipo di preparazione, andare più verso il campo sanitario, ma non di abbassarlo. Questa preoccupazione dell'invecchiamento è una preoccupazione che tocca da vicino anche i genitori. Gian Giacomo Carbonetti, genitore oltre che psicoterapeuta, ci parla della sua esperienza, della quale ha scritto anche in un suo libro. Diciamo che noi con il nostro figlio handicappato ormai 29enne, figlio down, con gravi problemi di vista 29enne, abbiamo soffruito di ottime cure, di ottime prestazioni, che possono essere i gruppi di volontari, che possono essere i campi di vacanza, che è il posto di lavoro nel laboratorio protetto, così come un tempo lo è stato la scuola per esempio. Quindi in questo momento noi siamo soddisfatti. Ecco, sapendo che tutte queste cose costano, chiaramente tutto quello che facciamo noi non costa, nel senso che noi ci occupiamo di nostro figlio come dei volontari. Insomma, mia moglie dice che a volte si sente di essere la segretaria o la manager di nostro figlio, cioè a organizzargli le cose, a organizzargli tutto, nel modo tale che lui faccia una vita adeguata. Ecco, quando non ci saremmo più noi ad avere questo ruolo, ci sarà qualcun altro che dovrà avere questo ruolo e questo qualcun altro che dovrà avere questo ruolo non potrà farlo che, o se non a pagamento, perché saranno le istituzioni che si occupano di questo, saranno degli educatori. Ecco, e quindi è veramente molto importante rendersi conto che comunque la qualità della vita costa, perché chiaramente il volontariato non basta, ci vuole anche professionalità, ci vogliono le istituzioni, ci vuole tutto questo. Ecco, quindi pensando a tutto questo, per noi sarebbe più facile separarsi dal nostro figlio, nel senso che noi ci separeremmo dal nostro figlio, direi prima di tutto forse nel nostro interesse, no? Perché noi invecchiamo, perché le nostre forze diminuiscono, no? Perché arrischiamo di far invecchiare il nostro figlio insieme di noi, eccetera, eccetera. Però ci dobbiamo separare anche nell'interesse di nostro figlio, no? Cioè che il nostro figlio impari già molto precocemente a stare con gli altri, no? Che impari che al mondo non ci siamo solo noi, no? Ma che al mondo ci sono altre persone che si possono occupare di lui. Ecco, a me capita di dire alle equip istituzionali nelle quali faccio supervisione o faccio consulenza, mi capita di chiedere sapete qual è la differenza tra la mamma e l'equipe, il gruppo di operatori che si occupa dei nostri figli. Ecco, la risposta è questa, è molto semplice, che la mamma muore e l'equipe non muore mai, no? Perché l'equipe si sviluppa in continuazione, c'è chi arriva, c'è chi parte, comunque in un'equipe istituzionale c'è una continuità che è ancora maggiore della continuità genitoriale. Però, ripeto, tutto questo costa. Forse il maggior incubo di un genitore, di un figlio portatore di handicap che non può gestire la propria vita da solo è sapere a chi andrà incontro questo nostro figlio, a quali tipi di persone, a quali istituzioni, no? A quali situazioni, se andrà in mano persone sensibili che gli offriranno la stessa qualità della vita che gli offriamo noi, oppure andrà in mano persone meno sensibili o magari stressate perché hanno troppo da fare, perché sottopagate, perché troppo in poche o qualcosa di questo genere, no? Ecco, quindi direi che la qualità di una società anche, non in qualche modo, si misura anche sulla cura che ha per i più deboli, nel senso che una società che lascia morire i più deboli non è una società civile, no? Una società che abbandona i più deboli o che non permette ai più deboli di fare una adeguata qualità di vita non è una buona società. Un amico, in un'occasione un po' come questa, pensando a queste cose, dice che la persona handicappata o la persona in difficoltà è un po' come il canarino dei minatori. Quando il canarino muore, i minatori dicono, no, qui adesso bisogna uscire perché c'è il gas tossico, no? Ecco, è un po' questa l'idea, che in qualche modo la persona handicappata in una società intossicata, in qualche modo, in una società malata, fa un po' la fine del canarino dei minatori. Ecco, io non vorrei proprio che mio figlio facesse la fine del canarino dei minatori. Ecco, in un tempo in cui ci si sente un po' minacciati, almeno come istituzioni che si occupano di handicap, si aggiunge anche la preoccupazione dei genitori, che evidentemente si sentono minacciati per quanto concerne la possibilità comunque di garantire un futuro ai loro figli. Ma le prospettive future allora quali sono? Le prospettive future effettivamente sono difficili e capisco la preoccupazione dei genitori, perché in Ticino si è lavorato molto e molto bene sull'integrazione, sul tentativo di restare fuori dalle istituzioni, di lavorare e di rientrare a casa, di andare alla scuola e di rientrare a casa, evitando quindi l'istituzione, diciamo, di primo occhito. Questo però comporta che adesso c'è una popolazione di una certa quantità, io non sono in grado in questo momento di quantificarla, forse qui è piuttosto chi lavora al dipartimento che è in grado di quantificarla, che si trova a lavorare nei laboratori e effettivamente ha delle famiglie alle spalle molto valide che fanno un ottimo lavoro per il proprio congiunto. Ma a un certo momento, come diceva Gian Giacomo Carbonetti, la famiglia dovrà ritirarsi, non sarà più in grado di… ecco, le strutture davanti alla crisi finanziaria si stanno un po', a mio modo di vedere, un po' chiudendo, quindi le nuove offerte faticano un po' a partire. Ecco, torniamo al tema da cui abbiamo cominciato, cioè la comunità che tipo di contributo può dare? Può dare delle offerte, vabbè, però è vero che sta cambiando anche la struttura e il modo di offrire in questi anni, per esempio, è maturata l'idea in qualche modo che all'handicap ci pensa lo Stato, quindi che non è più tanto importantissimo l'intervento del privato. Ecco, come mutare questa mentalità e soprattutto quali altri tipi di contributo le persone possono dare, la comunità in generale? Ecco, qui bisogna dire che è vero, è sempre stato lo Stato che si faceva carico ed è giusto che sia lo Stato, io credo che sia un compito che lo Stato non può lasciare ad altri. È chiaro che però le offerte che finora, le donazioni che venivano agli istituti, di solito venivano date per qualcosa in più, per gli extra, per le vacanze, che fosse qualcosa di piacevole per gli ospiti. Forse adesso bisognerà riorientare queste offerte anche sul necessario, quindi sulle prestazioni che direttamente eroghiamo ai nostri ospiti, magari si arriverà a coprire con queste donazioni qualche intervento del personale, cosa che ora non era fatto. Non c'è il rischio di una competizione fra le strutture? No, questo delle competizioni fra le strutture non credo che si possa… Farsi il marketing o comunque il ruolo di offerta migliore, non so come dire. No, questo credo di no, questo credo che sia un aspetto sicuramente che non entrerà, anche perché il lavoro fatto sulla qualità delle istituzioni ha portato comunque a un livello buono per tutte le istituzioni, quindi non vedo la lotta di marketing, sarebbe veramente peccato arrivare a questo. Credo che un'altra possibilità che la comunità ha per dare un contributo è magari una riscoperta del volontariato, che in questi tempi è molto forte all'esterno delle istituzioni ed è molto valido con i gruppi sportivi, con le attività di tempo libero. Ecco, forse ci sarà bisogno anche di una collaborazione per alcune situazioni particolari anche in istituzioni. L'istituzione però si è in qualche modo specializzata e i volontari sono fuori dall'istituzione anche perché nelle istituzioni fanno fatica a rientrarci o se no rischiano di diventare il sostituto non pagato di altri professionisti. Che ruolo hanno i volontari, che possono avere i volontari reintrodotti nell'istituzione? I volontari potrebbero avere proprio il ruolo di traduigno tra l'istituzione e la comunità. Per esempio, le situazioni di integrazione che noi offriamo ai nostri utenti richiedono tante volte il rapporto di uno-uno che noi fatichiamo adesso ad ottenere ed avere. Ecco che il volontario che quindi aiuta, accompagna la persona che esce dall'istituzione per dei momenti di integrazione, che siano la visita a qualche mostra particolare, andare al bar per fare un momento di socializzazione. Ecco, in queste situazioni fanno un po' da traduigno tra l'istituzione e la comunità. Ne parlerete e ne parleremo mercoledì prossimo di queste cose? Sì, abbiamo previsto appunto con la Fondazione Prove da Madre, nell'ambito di questi festeggiamenti per i 30 anni di esistenza dell'istituzione, di fare questa conferenza il 6 aprile a Balerna per cercare di sviluppare un po' questo tema della solidarietà nuova che si chiede un po' alla comunità. Continueremo il nostro discorso sulla Prove da Madre nell'ambito del trentesimo anniversario con una prossima puntata dedicata più specificamente ad una testimonianza diretta di come si vive nella Prove da Madre oggi. Buona settimana a tutti! Grazie a tutti!